Musica Siamo arrivati alla trentesima edizione del concorso Città di Pinerola e Torino, Città metropolitana. Anche in questa edizione sono veramente soddisfatta perché il livello dei concorrenti è altissimo, tanto che la giuria ha faticato veramente a trovare il primo premio. As far as the level of the candidates is concerned, it is of a very high standard, it's definitely above average. Maybe there are contests where the level is even higher, but I found that generally it was very coherent. And this of course made our task a little bit more difficult. The level of these groups is not so far from each other. So to decide which groups, which 12 groups go on for the second round and which ones no, is a little bit difficult. More difficult as if, you know, if the level would be very, very different. So it's been really great to meet so many young talented musicians and groups. And I think it's an amazing location here to do a competition, though always competitions are stressful for the candidates, of course. And also for the jury, because the level is extremely high. I think instead of listening to, for example, a violinist and a pianist, in which the violinist is focused on and the pianist is sort of in the background, is that it works for some pieces, but for real chamber music, such as a Beethoven sonata or a Brahms sonata, the pianist and the violinist are equal partners. And so having an opportunity for people to play and to be listened to as equals instead of the star and the accompanist, I think is a really, really important thing. And that's, among other things, what this competition is about. This is the first time that I take part in a jury in my life. I think it is very correctly running and very fairly organized. Prima di tutto, lasciatemi dire che per me è letteralmente un onore far parte di questa commissione. Ci sono dentro alcuni dei musicisti che ho più ammirato nel mio percorso musicale e per cui per me comunque vada un momento di grande crescita personale. vivendo un'att Zoe해지ano We had intense days. It was a big experience to listen to so many great young musicians to so many different formations, which was interesting, getting also to know new repertoire. We had so many great trios, duos, and also now a piano-cordetta band. Io sono molto onorato prima di tutto perché è la terza edizione che faccio e questo ha anche il grande pregio di essere uno dei pochissimi concorsi internazionali di musica da camera in Italia e con questo livello di concorrenti per non parlare delle giurie e dell'organizzazione che è sempre impeccabile. La nostra intenzione è quella di trovare soprattutto per un concorso di musica da camera i musicisti, cioè qualcuno che ci racconti qualcosa, non che faccia solo le note. La nostra intenzione è la nostra intenzione. Grazie. 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 Grazie.